Assessore, che cosa c'è dentro questo documento finanziario tanto contestato? Io credo che la contestazione fa parte dei ruoli, ovvero l'opposizione contesta sempre il bilancio e ovviamente la maggioranza presenta un bilancio. Ma io devo fare alcune considerazioni rapide e poi descriverò il bilancio. La prima, non abbiamo per la prima volta nella storia una legge finanziaria nazionale che è approvata. Non ci è mai capitato come Regione di dover predisporre un documento contabile senza avere i numeri da parte dello Stato. Questo crea qualche problema in ragione soprattutto delle cosiddette entrate trasferite o quelle che direttamente e indirettamente sono impattate da eventuali leggi dello Stato. Questo è il primo problema di questo bilancio. Per il resto, sul fronte ovviamente della spesa, quindi degli istanziamenti in uscita, noi abbiamo salvaguardato tutte le somme sul sociale, tutte quelle sul trasporto, abbiamo leggermente incrementato quelle relative alla cultura ed è il primo anno che accade, abbiamo aumentato di qualcosa le risorse per quanto riguarda le cosiddette somme urgenze e abbiamo incrementato inoltre le risorse per quanto riguarda gli eventuali danni dal maltempo per le spese sostenute o da sostenere per i comuni. Parliamo di una somma di 2 milioni e 400 mila euro. Questo per quanto riguarda la cosiddetta parte davvero variabile a disposizione. Poi ci sono le risorse che sono sostanzialmente cosiddette vincolate, i trasferimenti statali per i trasporti, quelli molto corposi, la gran parte del bilancio che riguarda la sanità e per quanto riguarda poi le altre spese sono finanziate dalla Regione ma sono spese sostanzialmente fisse, il personale e i cosiddetti costi di funzionamento.